cosa succede se verniciamo una lamiera zincata con vernice all'acqua o con una vernice al solvente ecco avete visto che cosa è successo in questo caso una volta essiccata la vernice è andata in esfoliazione questo perché la zincatura non accetta questa la vernice all'acqua o la vernice al solvente se prima non è trattata con un apposito fondo oppure esistono sul mercato dei prodotti che hanno già al loro interno questo diciamo questo fondo ancorante per la zincatura specifico per la zincatura queste vernici che sono quelle ormai più utilizzate possono essere anche colorate hanno come detto questo questo fondo nel loro interno ed evitano questo problema di esfoliazione molto comune perché sicuramente vi sarà capitato di vedere come in questo caso queste lamiere oppure le saracinesche spesso si vedono dei negozi in esfoliazione la vernice che si che si stacca perché appunto vengono usate dei prodotti che non sono idonei e se siete interessati a questi contenuti ai contenuti di questo canale iscrivetevi e rimanete in contatto su solo pittura di massimo lattanzi